Due gol per ritornare alla vittoria, ma soprattutto per terminare un digiuno fin troppo lungo. Davis Curial, attaccante del Trapani, ritrova la via della Leta e raggiunge la doppia cifra in classifica Cannonieri. Un traguardo importante, ma non certo paragonabile alla gioia del primo gol assegnato al provinciale. Lo stadio ci ha sempre sostenuto ed è stato bellissimo per me a segnare in casa, ha detto, sul 4-2 poi è stata una liberazione perché abbiamo chiuso la partita. Fino al 3-2 c'era un po' di paura, siamo stati fortunati, ma ce la siamo cercata. In altre partite non è girata bene, spero che il vento sia cambiato definitivamente. Ha dichiarato appunto l'ex attaccante del Frosinone, che ha voluto dedicare inoltre un pensiero a Boscaglia. Non è stato facile perché qui mi ha voluto Boscaglia e l'ho sempre ringraziato. Era il mio sogno giocare con questa maglia, mi è dispiaciuto perché mi sono sentito anche responsabile del suo esonero. Sono mancati i miei gol. Intanto per i Granata, sabato, arriva il Bologna, partita sicuramente delicata. Quanto difficile per la formazione di Serse Cosmi. Il Catania invece cerca punti salvezza in quel di Chiavari contro Lentella. Catania che nelle ultime due gare ha conquistato due pareggi, sempre per 0-0, ma che a Chiavari dovrà assolutamente cercare la vittoria.